Arendt dice che, ci dice, in estrema sintesi ovviamente, che la politica deve occuparsi della comunanza dei diversi, garantendone la libertà. Ulrich Beck parte dallo stesso presupposto, sostenendo che la politica senza persone è un guscio vuoto. E' un aeroporto, i tempi, la modernità. Ulrich Beck ci dice che la politica senza le persone è un guscio vuoto. Poi si spinge oltre e aggiunge che la politica può garantire la libertà soltanto se si fonda sul riconoscimento dell'alterità. Ecco, la domanda è semplice, insomma. Oltre al populismo e al liberismo tecnocratico, evidentemente c'è un'altra via. Sì, io tanto ringrazio tutti voi. Un po' mi sento anche un po' padron di casa perché questo libro è nato attraverso un sodalizio che da lunghi anni, fatto con Igor, ho di militanza con Franco Vittoria, quindi mi permetto di parlare come un po' se il libro fosse anche il prodotto di una discussione un po' collettiva e poi anche dentro la storia, diciamo, seppur breve, di campo democratico e del tentativo che noi abbiamo fatto al congresso di tematizzare proprio la questione della crisi democratica della rappresentanza e dell'esigenza. Direi nella distrazione generale. Io sono contento che c'è una distrazione generale che siccome io non indicavo nessun candidato, diciamo, la cosa ha avuto poche rialanze. Io sono contento che si discuta lunedì, spero che si discuta nello stesso modo come si è discusso oggi con la profondità, la pacchetezza e l'intelligenza abbastanza consueta di Claudia, di Matteo e poi naturalmente dell'autore di Igor. Io però cercherò di arrivare alla tua domanda, però non posso non intervenire sul tema che è stato discusso oggi, perché se no c'è una discussione un po' su tutto, gli stimoli sono tanti, le cose che ha detto adesso Franco sono pieni di spunti, ma insomma io vado al sodo di quello che penso sulle cose che sono state dette. Io penso questo, che un partito, come ha detto giustamente Claudia, che lei dice io voglio che sia un partito della sinistra, è un partito che rappresenta il conflitto, cioè che capisce dove in una certa fase storica sta il conflitto e quando dico il conflitto sta, diciamo, l'elemento bloccante di una società di ossificazione delle ingiustizie e cerca di smuovere queste ingiustizie. Cerca, insomma, io uso sempre di fare in modo che quelli che stanno in basso stiano un po' meno in basso, insomma, è un riequilibrio tra chi sta sopra e chi sta su. La funzione è questa ed è rivolta alle persone. Io poi alla fine se dovessi dire il succo del perché ho fatto politica o del perché mi sento di sinistra, il succo è questo, perché nel rapporto con gli altri, diciamo, c'è quella che qualcuno meglio di me ha detto, insomma, l'insopportabilità del sovruso, dell'ingiustizia, è una rivolta che è persino, diciamo così, istintuale, fisica persino, più che teore, è che si arriva alla sinistra perché si leggono i libri, si arriva alla sinistra e poi si leggono i libri, ma perché c'è questo sentimento e questa spinta. Il tema della crisi nostra, secondo me, è che a un certo punto noi non abbiamo più capito dov'era il conflitto e dov'erano le vere ingiustizie. Questa è stata la crisi anche della nostra forma partita e anche della nostra funzione nazionale democratica, perché mentre nel dopoguerra abbiamo ben capito che cosa dovevamo fare e dove, diciamo, il dente duole e a un certo punto, ma questo sarebbe lungo parlarne per quello che è successo nel mondo, la globalizzazione, le cose che abbiamo detto, eccetera, 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 noi abbiamo perso quella penetrante capacità di capire dove le persone soffrono, di che soffrono e quali soffrono. E questo ci ha reso molto impotenti e quindi ha messo fuori gioco, fuori asse la nostra politica e è diventata una politica, io qui sono molto critico, lo sa Matteo, via via sempre di più una politica che non decide e che non ha consenso. Quindi, che non decide e che non ha consenso. E quindi da qui, perché non è che ci sono le correnti e c'è la degenerazione dei comportamenti, perché adesso siamo tutti più cattivi, ci sono le correnti e c'è la degenerazione dei comportamenti e che via via noi abbiamo, diciamo, sempre di più perso una funzione attiva, propulsiva e quindi anche persino, come dire, gratificante per chi poi si impegna su quel terreno e via via abbiamo vissuto il tram tram che ci porta poi alla fine a vedere anche ognuno i cavoli propri e questo fa parte di franno dell'animo umano. Io penso che oggi, se dovessi dire, io ho fatto la campagna elettorale per l'europeo, ho girato tanto, eccetera, la cifra che io ho trovato è una grandissima solitudine. La gente è sola ed è sola di fronte ad ingiustizie che sono molto, molto, come dire, da indagare perché una persona per metà giornata può essere quello che fa il soppruso e per l'altra metà giornata e quello che invece lo subisce. E quindi c'è un carattere poliedrico molto complesso nel capire, ecco, dove noi dobbiamo poi alla fine appigliarci per svolgere una funzione positiva. Vale a dire che, è chiaro, quando si è discusa, non è il padrone che è la cosa che ha detto Renzi, i padroni, eccetera, c'è uno, un imprenditore che lotta nel mezzogiorno contro la mafia per fare il proprio dovere e vuole rimanere lì, è difficile definirlo il padrone, l'albergatore che nelle marche che io conosco bene, che guadagna alla fine, che guadagna una azienda familiare di su tutti i tre stelle, che alla fine guadagnerà 50-60 mila euro di profitto all'anno e ci deve mantenere tutta la famiglia e combatte contro la burocrazia, la milita di tasse, la persecuzione, di quelli che gli chiedono di fare ventimila cose, ventimila carte da firmare e poi si vede naturalmente l'ambulante che sta lì, che vende tutto tranquillamente senza permessi, senza cavolo, eccetera, eccetera, diventa matto e sente che gli cresce dentro una, come dire, una spinta antistatuale e comunque subisce un'ingiustizia e quindi vedete come è complessa. Ecco, vabbè, adesso non la voglio fare lunga, solitudine e nuove ingiustizie, ingiustizie orizzontali, trasversali, estremamente pervasive e difficili da raccogliere. Noi siamo dicendo che questa situazione, adesso l'ho detta naturalmente con la rozzezza di Roma. E in queste ingiustizie c'è anche il fatto che poi questo paese, la parte vitale di questo paese è vitalissima, che vorrebbe rispondere in positivo a questa cosa, si trova di fronte a un paese dominato dalle rendite, in tutti i campi, compreso il campo nostro. Anzi, il nostro campo è pieno di rendite, perché adesso si discute dell'Emilia Romagna, vedremo come andrà a finire la vicenda dell'Emilia Romagna, eccetera, eccetera. Ma noi sono anni che in quella società, e basta vedere bene l'inizio di certe difficoltà elettorali, di certe primarie andate in un certo modo, di certa crisi dei gruppi dirigenti, di lì è e danni che quel sistema e quel compromesso è diventato un sistema, un compromesso di rendite politiche, anche economiche, e c'è tanta gente esclusa, tanta gente esclusa, a partire dalle giovani generazioni. Allora, qui è stata, secondo me, la forza di Renzi, perché Renzi ha vinto, ha ragione, perfettamente ragione Matteo. Io faccio, quando mi dicono, ma Renzi è fragile, non c'ha la cosa, l'approfondimento, non c'ha... Io vedo il contrario, semmai il problema di Renzi è un eccesso di visione, è un eccesso di politica, non è l'inverso, non è la debolezza, la fragilità politica, l'immagine è solo un cavolo, perché ha vinto le elezioni proprio per le cose che c'è a Matteo, e cioè il fatto che ha messo in campo una certa visione coerente. Certo non sarà stato... non è perfetta, bisogna... benissimo, facciamo quello... non sarà bravissimo nel poi saper rispondere perfettamente a tutti i processi decisionali, che sono una parte importantissima, però lui ha messo in campo una visione, cioè ha detto io vorrei che l'Italia fosse così, ma quanti anni sono che noi non diciamo una cosa di questo genere? Noi abbiamo fatto quattro giravolte nella decisione, senza mai riunire la direzione, e oggi io sento una critica sulla democrazia interna del partito, io non ho mai visto la direzione del partito funzionare come ha funzionato in questi mesi, pure però abbiamo discusso tutto, poi certo, chi perde in siglugna, cioè c'è la discussione, è chiaro, non ci sono le relazioni omnicomprensive dove non si capisce niente, c'è il dilemma su quale scegliere, e poi la maggioranza sceglie, ma noi abbiamo dopo le elezioni detto che avevamo vinto, avevamo fatto il governo del combattimento, del cambiamento, non mi ricordo come si chiamava, contro Berlusconi, poi abbiamo detto Marini con Berlusconi, poi abbiamo detto Prodi contro Berlusconi, poi abbiamo fatto il governo con Berlusconi, l'abbiamo mai riunito la direzione del partito, ci vuole anche una certa misura, quando abbiamo riunito abbiamo votato un documento e diceva decidano qualità, sì, ecco l'unica volta, perché era più prudente non fare il dibattito, esatto, ora qual è il problema? È che questa ripresa di decisione politica, che io non so come andrà a finire, comunque io apprezzo, che io apprezzo e sostengo, però sta su un crinale, e secondo me il crinale è esattamente un po' la discussione che abbiamo fatto oggi, perché sta su un crinale? Perché questa decisione politica, e cioè questo impulso che Renzi sta dando al movimento politico italiano, è come un cazzotto dato su una ragnatela molto fragile, perché il paese è così, la democrazia del paese è fragile, le istituzioni sono fragilissime, ed è soprattutto tremendamente fragile il rapporto di fiducia tra la politica e la gente, i cittadini, quindi il pericolo che questa cosa si trasformi in quello che è poi la sindrome di chi, perché poi la politica è sempre, è decisione, la politica è decisione, la politica si erge un po' contro la storia, cioè contro il ripetersi delle cose, è sempre un elemento che ha queste caratteristiche, però quando a un certo punto, e qui qualche elemento ci può essere, se facciamo una discussione molto tra di noi in questo momento, e cioè quando a un certo punto chi vuole fare le cose, vede che la realtà non gli risponde, perché? Perché ci sono le rendite, perché ci sono le conservazioni, perché il partito ha una parte, ha la nostalgia, perché la società è friabile, perché comunque è una società profondamente, quella italiana diciamo rinchiusa in se stessa, in molte parti, certo c'è anche grandi spazi di generosità di creatività, ma è anche questo il pericolo, è che si incomincia a pensare che la colpa è della realtà, e quindi ci si incaponisce, e incaponendosi si può avere una sbandata di tipo volontaristico, non uso il termine autoritario, ma di tipo volontaristico. E' qui che noi dobbiamo inserire lunedì la discussione sul partito, perché è questo il punto, cioè il carattere politico, è questo. Fino adesso la segreteria del partito, chi si è occupato di queste questioni, Renzi non si è occupato, chi si è occupato nei mesi passati di queste questioni ha lavorato su uno schema, che è quello del compromesso tra lasciate perdere Renzi e nello stesso tempo però nei territori, io lascio le cose come stanno, anzi certe volte hanno fatto pure più confusione, perché non bastavano le correnti, ho visto quelli, neanche Benedetta una nuova qui a Roma, a Roma una nuova, perché non bastavano quelle che c'erano, quindi c'è un'insufficienza di direzione politica su questo terreno e sono contento che adesso Renzi se ne occupi e voglia affrontare la questione. Vedremo come andrà la discussione e dovremo dare tutti un contributo. E secondo me, e chiudo, in che curvatura deve avere questo tema? Deve avere, secondo me, una curvatura nella quale, proprio partendo dal carattere solitario, un po' solitario e diciamo variegato e contraddittorio della realtà sociale, noi come a me mi hanno insegnato fin da quando ero ragazzino, dobbiamo andare a calcomania su questo, saper leggere questi conflitti e andarci a calcomania, ma con la forma partito. Ma come ci si può andare a calcomania? Soprattutto tenendo conto che la gente è così sfiduciata, è così insofferente. Io penso che non si può altro che fare coinvolgendo le persone, quindi non le correnti, le persone, che sono quelle che vivono questa contraddizione e la vivono nelle forme più varie, più, ripeto, più certe volte conflittuali, più diverse, più molteplici, coinvolgerle in uno sforzo, direi in un'azione dove noi mettiamo in campo un surplus di politica. E cioè coinvolgerle non nella propaganda, nell'indottrinamento, nella semplice partecipazione, ma nel momento della decisione politica. Cioè io penso che si possa ricivilizzare e ripoliticizzare la società civile, quindi ricivilizzare la società civile, che è abbastanza incivile, solo attraverso questo tipo di operazione coraggiosa. Cioè di rirendere, diciamo, forte, chiaro il dibattito politico, il conflitto politico, rimettendo dentro un processo che è quello messo in campo da Renzi nei piani alti della politica anche sul terreno, diciamo, dei cittadini, quindi dal basso. Che è stato poi il grande tema che D'Alema disse, noi abbiamo peccato di riformismo dall'altro. Sì, abbiamo peccato di riformismo dall'altro. Perché non c'è stato questo processo. Sì. Dopodiché, tu dici, ma attenzione, perché qui è pericoloso, perché siccome le condizioni sono queste, qui può darsi che noi vogliamo arrivare ad A e invece ci portiamo il treno a C. Io però qui rispondo in due modi, cioè se non si inizia, non si fa mai niente. Anche il voto alle donne è stato un azzardo. Ci fu un dibattito. Una parte della sinistra diceva che dovrebbero votare, perché avrebbero votato a destra e le democrazioni cristiane. Non era un motivo per non fare questa operazione democratica. L'ultimo paese. Sì, l'ultimo paese. Quindi, hai capito in che senso. Quindi, era anche uno dei paesi più arretrati. Io penso che, naturalmente, adesso non è che voglio ritornare in tutti i dettagli di questo che è stato la nostra ricerca, il nostro sforzo, la nostra battaglia sul campo democratico, però io penso che un partito dove noi chiamiamo, leviamo tutte le cose, diciamo, le intercapelli burocratiche, le correnti, facciamo dei bei centri di studio, di ricerca, delle aree politiche che producono idee. E poi sulle questioni fondamentali facciamo non dei referendum, perché questo è un po' povero, ma qualcosa di più. Cioè, un'operazione culturale rivolta al paese. Cioè, istruiamo grandi dibattiti che portano a decisioni politiche sulle questioni fondamentali che riguardano il futuro dell'Italia, dirette dal gruppo dirigente. Ci può arrivare anche a un conflitto. Io dico che si può arrivare anche al fatto che il gruppo dirigente deroga rispetto a quello che è emerso nella conflittazione o non lo accetta integralmente, ma il conflitto è chiaro e democratico e si assume la responsabilità di cui è comunque fatto in operazione di grande, diciamo, civilizzazione delle persone e di, diciamo, di connessione nuova, di tentativo di connessione tra la politica, il partito e i cittadini. Che c'entra tutto questo con il libro di Vittoria? C'entra moltissimo, perché il libro di Vittoria è tutta una, diciamo, ricerca attorno ai temi della democrazia, della perdita di senso, degli effetti della globalizzazione. Quindi c'è dentro la crisi di fronte alla quale noi stiamo. Io sul libro, lui lo sa, faccio solo due osservazioni, che non sono critiche, ma sono due osservazioni. Sulla globalizzazione noi dobbiamo stare attenti a che la globalizzazione ha fatto molto male all'Europa, ma miliardi di persone stanno molto meglio. Ma molto meglio. Ecco, basta viaggiare e uno se ne accorge. Stanno molto meglio. Anzi, io dico sempre che la globalizzazione è un po' come l'industria autocentesca, che doveva essere il momento massimo di profitto per quanto riguardava naturalmente le sorti del capitalismo e poi però, certo, lo è stata, però ha creato l'antitodo al capitalismo stesso e poi ha ammassato gli operai, i lavoratori in un luogo e da lì ha preso coscienza, la lotta, eccetera, e le cose che sapete. La globalizzazione è stata un momento massimo, diciamo, di massimizzazione dei profitti, ma anche lì c'è il diavoletto, perché ha messo in moto miliardi di persone che prima erano completamente escuse dalla storia. Sanno come viviamo noi, sanno quali possono essere i livelli del consumo e del benessere, cominciano a sognare, ad avere aspirazioni, poi vediamo, nel senso che evidentemente questo può portare a strutture, ma generalmente il livello di vita è molto più alto e si è battuta la fame in continenti enormi, o comunque una parte di queste popolazioni è uscita dalla fame. La seconda osservazione è quando il libro si ferma molto sul tema, si sofferma, diciamo, sul tema della necessità di un ritorno, persino in un certo momento tu dici che le persone hanno bisogno di una verità. Ecco, io su quello vado sempre anche su quello, perché bisogno della verità purtroppo, perché la verità in quanto verità esclude tutte le altre verità e quindi c'è sempre un elemento di violenza dentro di sé. Quindi io quando penso alla nostra ricerca, al nostro lavoro, io preferirei parlare di visione, preferirei parlare di una cosa che accompagna, però anche con il dubbio, con l'apertura di un processo che rivede continuamente i risultati, di verifica, aperto diciamo molto ad una integrazione della visione dell'altro. Il termine verità mi dà sempre un senso di ristrettezza. Capisco quello che vuole dire Franco e lo cita in riferimento mi pare a che tu citi qualcuno adesso non mi ricordo. Su questo ma io ripeto, ogni verità esclude le altre e quando succede questo in ogni verità c'è sempre l'inizio di un processo violento della politica. Grazie. 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 Grazie.